... Amici sportivi appassionati di calcio a 5 la buona serata da Fabrizio Agostini e benvenuti al Palabianchini di Latina venerdì di grande futsal qui al Palabianchini quarta giornata del campionato di Serie A1 di calcio a 5 si affrontano l'Axed Group Latina la SS Lazio calcio a 5 tutto ok da parte dell'arbitro si parte verticale per Maina ora Maina prova il gioco di gambe poi col destro e arriva la rete del vantaggio Pontino firmato Lucio Avellino salone per Battistoni arresta Battistoni rientra Battistoni e destro vicinissimo al palo pallone per Battistoni ancora e la palla in rete Battistoni 2 a 0 1-2 micidiale dell'Axed Group Berchinchio suggerimento ancora per Bernardes che va via sinistro di Bernardes Patrizzi stavolta dice no la polpa ceco ma c'è Maina ancora Avellino lascia Maina allarga Bernardes Maina sinistro palla di poco alta Avellino sul punto di battuta Avellino direttamente in porta ed è una punizione vincente 3 a 0 Latina doppietta di Lucio Avellino per Avellino dentro per Terenzi c'è arriva Terenzi destro la deviazione di Patrizzi Gasson verticalizzazione Chilelli Chilelli col suo fisico si fa sentire poi al volo polpa ceco Fortini Fortini destro improvviso Chinchio poi l'anticipo di Maina Avellino Avellino appoggia Maina libera sinistro mamma che gol Lucas Maina splendido 4 a 0 della Tena ancora Gasson poi però sbaglia Maina Maina tutto solo Maina contro Patrizzi prova il gol strepitoso Gasson direttamente in porta Chinchio respinge poi la deviazione chiude la linea di passaggio Gasson Gasson numero di Gasson Gasson Chinchio ancora Corso Avellino per Maina che mette dentro cinquina di Latina poi Fortini di Breck da parte di Battistoni che porta 6 le marcature doppietta anche per lui la verticalizzazione Paoligno tutto solo stoppa Paoligno palla sul palo Rodri parla per lui ancora Gasson prova lui stavolta arriva il gol di Gasson poi Battistoni per Corso punta Chilelli Corso Corso sinistro si oppone Blasim ancora Corso colpo di tacco di Maina Avellino che non riesce a passare Pollo Paceco sinistro Chinchio raddoppiato Paoligno poi perde palla Battistoni Battistoni va via Battistoni con gran classe Battistoni Maina Maina scarica il sinistro gran parata di Rodri partire in transizione Pica Pau poi il rimpallo favorisce Bernardes 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 poi pallone che viene salvato sulla linea Corso va via Corso vince un rimpallo Corso 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 palla fuori Gasson Ghezzon Polpaceco Polpaceco destro la respinta di Chinchio poi Ghezzon la sua ricerca della vittoria anzi dei primi punti questa sarà la quarta sconfitta in quattro giornate ora la traversa intanto di Polpaceco Rosati Gattarella il migliore dei suoi grande temperamento tiro in porta Chinchio respinge Terenzi ancora Chinelli a rimorchio Chinchio la respinta termina la partita Palla Bianchini in piedi per questa grande vittoria dell'Axed Group Latina che si impone 6 a 1 sulla Lazio Calcio a 5